Preferenze alimentari Vegani I vegani in Italia sono dell'1.9% Vegetariani Vemati 1 I vegetariani in Italia sono del 5.4% Normale I normali in Italia sono del 87.7% Vegani I maschi vegani sono dell'1.1% Le femmine vegani sono del 2.8% Vegetariani I maschi vegetariani sono del 5% Le femmine vegetariani sono del 5.8% Vemati di 1 Il vegetariano è caduto nella casella tentazioni Va indietro di 2 Non è saputa resistere al cibo non vegetariano Normale I maschi normali sono del 90.8% Le femmine normali sono del 84.7% Ha vinto il vegano Ha vinto il vegano Il vegano è riuscito a finire il suo ciclo di vita senza avere tentazioni Hai un corpo sano e in salute Il secondo posto va al normale E al terzo posto al vegetariano Il vegano è stato presentato da Alice Basserelli Il nostro secondo posto il normale è stato presentato da Francesco Danqua Il nostro terzo posto il vegetariano è stato presentato da Ambra Rimpelli E il nostro narratore Marco Urrazza La nostra regista Ginevra D'Artizio E la nostra regista Ose Cavotta La nostra designer Sara Muccia Con lei che ha creato tutte quante le caselle del campo insieme al titolo Veronica Battiato è la caporegista E Roberto Sorato Con lui che ha cercato e trovato tutte quante le statistiche Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti